Sera ci sta decisamente molto bene. Ma a quest'ora della sera anche un consiglio in merito alla lettura, quindi ecco qui il nostro libraio Arturo. Arturo buonasera. Buonasera Geo, buonasera Simo, ciao. Allora, questa sera di chi parliamo? Allora, stasera vi parlo di un libro che si intitola Rebels, David Bowie, in serie ritratti d'autore, edito dalla nave di Teseo. Un libro molto interessante perché ci sono sei autori che raccontano il loro David Bowie, chi l'ha amato, chi ci ha lavorato, chi è stato semplicemente fan. Tra gli autori ci sono due scritti di Battiato e Verdone, per esempio. Pensate. E' infatti molto interessante. Io velocissimamente vi racconto solo quello che racconta Michael Cunningham, autore tra gli altri del romanzo Le Ore, e dice che una mattina lui era in treno a New York, ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto, dall'altra parte c'era un signore che gli ha detto buongiorno Michael, sono David Bowie. Lui da fan ovviamente ha fatto un salto e David Bowie voleva accordarsi con lui per scrivere insieme un musical. Quindi veramente consiglio vivamente la lettura di questo libro perché ci dà modo di scoprire David Bowie sotto altri aspetti. Un grandissimo, un genio che ci manca di giorno in giorno. Quindi grazie mille. Per tutto il resto la pagina tua Facebook Semina Libro. Grazie Arturo.